Nel mondo della moda, la bellezza è potere. La bellezza è un valore, una forma di talento. Devi affermarti come supermodello, farti conoscere dal mondo. L'età, la paura di invecchiare. Dorian espresse un desiderio di invecchiare solo nel ritratto, mentre lui sarebbe rimasto giovane per sempre. Una specie di patto con il diavolo. Sto al patto. Affare fatto, allora. Allora, ti va di continuare col divertimento? Sì. Con quella faccia non c'è nulla che tu non possa avere. Sei l'uomo più fortunato del mondo, Dorian. Tutto è senza limiti. Per sempre, Dorian. È come quella storia che mi hai raccontato, subito dopo la morte di Sibyl. E da allora sempre penso. Io e te abbiamo un contratto. Anima e corpo, Dorian. Basta! Questo sei tu! Per sempre, Dorian. Ma dietro all'eterna giovinezza. Che diavolo ti prende? Può nascondersi l'inferno. Per sempre, Dorian. Malcolm McDowell. In un adattamento moderno della storia senza tempo sulla vanità, sulla lussuria e sul tradimento. Di Oscar Wilde. Per la prima volta sugli schermi, Ethan Erickson nel ruolo di... Dorian. Di Oscar Wilde. Si no, di far più di aonde lui. MiPo diusionsi al ruolo di urlain,